Musica Occhio alla notizia, in studio, Marco Ferri Diamo subito uno sguardo ai titoli in primo piano in questa edizione del Telegiornale Piazza del Popolo Semideserta per il sit-in di protesta organizzato da Carriera contro il provvedimento di chiusura del governo Sei le persone decedute nelle ultime 24 ore nelle Marche, tutte avevano patologie pregresse Il sindaco Seri promette sanzioni esemplari per gli autori degli atti vandalici compiuti nel quartiere Sant'Orso la sera di Halloween La polizia sta controllando le telecamere della zona per individuare tutti i responsabili Anche a Fano è stata celebrata la giornata di commemorazione dei defunti Tanta gente ai cimiteri, messa del Vescovo Trasarti alla tomba dei militari caduti in guerra Esonerato il tecnico del Fano, Marco Alessandrini A suo posto arriva Flavio Destro Tra poco primo cittadino in diretta con il sindaco di Fossombrone Gabriele Borg Benvenuti a questa nuova edizione del Telegiornale, cari telespettatori di Fano TV Andiamo subito a Pesero perché da poco si è conclusa la manifestazione di protesta Il sit-in in Piazza del Popolo contro le misure imposte dal Governo La seguita per noi ed è in collegamento Angelica Panzieri Sì Marco, ci troviamo qui in Piazza del Popolo dove oggi si è tenuta la seconda manifestazione di protesta Organizzata dal ristoratore Umberto Carriera Rispetto al lunedì scorso si è registrata un'affluenza decisamente minore Ce l'abbiamo qui con noi Carriera è sceso di nuovo in piazza Nonostante le siano state notificate due multe da 400 euro E la sospensione della licenza di 15 giorni per il suo locale la macelleria Non era forse il caso di fermarsi? Non era il caso di fermarsi perché il mio non era un gesto che doveva rimanere fino a se stesso Ma una manifestazione assolutamente pacifica che continuerà Una manifestazione pacifica che continuerà Lei prima ha detto siamo sotto dittatura, delle parole fortissime È palese ed evidente, chiunque può vedere che siamo di fronte ad una dittatura Dove gli altri decidono e noi dobbiamo per forza di cose fare quello che ci dicono gli altri Rimanendo secondo me all'interno delle regole di vivibilità come ho fatto io Perché ripeto, tenere aperto il ristorante con le stesse regole del giorno, la sera Non cambia assolutamente nulla Fa parte del modo superando di chiunque Quindi bisogna vivere e sopravvivere in questo modo Sui social ha dichiarato anche che la stanno aiutando nella sua lotta Per combattere la sua lotta le stanno arrivando dei soldi Che cosa intendeva dire? Semplicemente le persone mi chiamano e mi chiedono come possono aiutarmi Io chiedo di sostenere la mia causa partecipando alle manifestazioni Qualcuno dall'estero mi ha chiesto per forza di cose di volermi aiutare economicamente E allora mi hanno chiesto come fare e che l'hanno fatto Oggi c'erano molte meno persone di lunedì scorso E simbolo del fatto che alcuni ristoratori forse hanno voluto prendere le distanze dal suo modo di protestare Anche lunedì scorso in realtà la manifestazione era organizzata scomunque soltanto da me Perché quella degli altri ristoratori Insomma più che altro più che degli altri ristoratori direi Della Conf Commercio Della stazione Oreca Che rappresentano insomma delle bandierine fondamentalmente messe lì Una sorta di azioni sindacali Non trovo un altro modo per definirle E oggi eravamo circa 200 persone provenienti da tutta Italia E storicamente insomma la prima manifestazione è sempre con molta gente Quelle che si seguono insomma hanno sempre meno persone Ma direi che è stata molto più incisiva quella di oggi Ecco lo avete sentito per il momento da Piazza del Popolo è tutto E abbiamo realizzato anche l'intervista a Sofia Una 24enne titolare del ristorante Villa I Tramonti Potete sentirla? A manifestare oggi anche Sofia Pecci 24 anni titolare di Villa I Tramonti Perché sei qui Sofia? Sono qui per lanciare un messaggio al nostro governo Gli italiani leggono, si informano Sappiamo che avevano tutto il tempo per prepararsi E adesso noi ci ritroviamo a essere usati come capro espiatorio E a chiudere nonostante abbiamo rispettato tutte le norme Di sicurezza investendo di tasca nostra per assicurare ai nostri clienti La sicurezza nel momento in cui venivano presso i nostri locali E davanti a questo non possiamo più tacere Basta Siamo stufi che veniamo etichettati come quelli che non vogliono pagare le tasse Quelli che pensano solo al loro guadagno Non è così Noi stiamo combattendo per il nostro futuro Noi stiamo combattendo perché amiamo il nostro paese Io ho 24 anni e sono qui con un'attività e non vado da nessuna parte Ma davanti a tutti gli errori che hanno fatto Davanti alla completa non curanza di quello che sapevano sarebbe stata una seconda ondata imminente Davanti agli investimenti nulli che hanno fatto per aumentare i posti in terapia intensiva E i trasporti non possono riconoscere la causa della seconda ondata ai ristoratori e alla movida dei giovani Quindi siamo qui per questo Per dire che non ci stiamo, che non ci sta bene Bene, grazie Angelica di questa corrispondenza Mi pare che lì in piazza ormai tutto si sia concluso nel rispetto delle regole Comunque senza disagi, senza problemi Sì, una manifestazione che è avvenuta in piena sicurezza Possiamo dire che c'erano più rappresentanti delle forze dell'ordine che manifestanti Perché a differenza di lunedì scorso oggi la piazza era semideserta Simbolo del fatto che diversi ristoratori, in particolare il gruppo Reca della Concommercio Ha voluto prendere le distanze dalla posizione di Umberto Carriera E infatti ha organizzato per sabato 7 novembre un'altra manifestazione di protesta pacifica Alle 18.30 in Piazza del Popolo Per il momento da Piazza del Popolo è tutto, linea allo studio Grazie Angelica Panzieri Noi andiamo avanti con il telegiornale Parliamo del coronavirus e dell'andamento della pandemia nella nostra regione Nelle ultime 24 ore nelle Marche si sono verificati sei decessi legati al coronavirus Tutte le vittime avevano patologie pregresse All'ospedale di Fabriano è deceduta un'anziana del posto di 89 anni Nel nosocomio di San Benedetto del Tronto ha perso la vita una signora di 82 anni Mentre nella casa di riposo di Galantara a Pesaro sono deceduti un 68enne di Monte Felcino E un'anziana di 92 anni residente del comune di Loro Piceno in provincia di Macerata All'ospedale di Senigallia invece è morta una 91enne di Fabriano Mentre nel nosocomio di Civitanova Marche è deceduto un signore di 88 anni residente a Potenza Picena Nell'ultima giornata sono stati rilevati 373 positivi su oltre 1100 tamponi eseguiti nel percorso nuove diagnosi La provincia di Ancona rimane la più colpita con 152 casi Seguono Macerata con 75, Pesaro Urbino con 58, Fermo con 50, Ascoli Piceno con 2 casi 13 positivi provenienti invece da fuori regione Maggiori contagi si riscontrano ancora in ambiente familiare I ricoveri invece salgono a 384 In particolare ci sono 8 degenti in più in terapia intensiva per un totale di 50 pazienti E 2 in più in semi-intensiva E adesso invece parliamo della follia di Halloween Sabato scorso centinaia di ragazzi hanno devastato il quartiere di Sant'Orso E altri parchi della città di Fano Il sindaco Massimo Seri assicura provvedimenti esemplari nei confronti dei responsabili Simona Zonghetti Botti, fumogeni, atti vandalici e risse E' stato definito un teatro di guerriglia urbana Quanto accaduto sabato sera a Sant'Orso di Fano La chiusura anticipata dei locali imposta dal DPCM non è servita Le decine di ragazzi dai 14 ai 20 anni Che in barba alle norme anticontagio hanno creato assembramenti e provocato danni ovunque Questo è il bilancio della notte brava Arredi urbani completamente distrutti Veicoli in sosta rovinati Muri imbrattati Urla Pali della luce di venti E cassonetti dell'indifferenziata in mezzo alla strada Come se non bastasse Non sono mancati insulti agli agenti E lancio di petardi e di altri oggetti Sulle auto delle forze dell'ordine Avviciniamo la macchia Poco prima delle 18 nei giardini situati nei pressi della scuola elementare Sono stati vissuti momenti di tensione Quando un uomo è venuto alle mani con un ragazzo In queste immagini si vede una signora che Orlando Ha provato ad allontanare i giovani minacciandoli anche con un bastone che teneva in mano E il nuovo Bronx ha detto qualcuno Fino a notte fonda alla nostra redazione sono arrivate tantissime segnalazioni Corredate da foto e video di residenti esasperati Dura la condanna del primo cittadino Massimo Seri Che ha assicurato provvedimenti esemplari per gli autori degli atti Definiti dal sindaco di puro teppismo Le immagini che abbiamo visto a Sant'Orso sono indecifrabili Quindi io come sindaco queste cose non le tollero E quindi sarò anche conseguente Adesso stiamo analizzando tutte le immagini Perché questa volta interverremo per dare veramente un segnale forte Poi ripeto, siamo stati tutti ragazzi Ci si deve divertire ma nella giusta maniera E poi un appello anche ai genitori Perché questi non sono figli di nessuno Sono i nostri ragazzi E quindi penso che anche noi dobbiamo essere più severi Quando si tengono certi comportamenti Poi c'è anche un tema di comunità Quando si fanno danni alle cose Noi facciamo un danno al bene pubblico Io penso che questi ragazzi a casa loro Non buttano i fumogeni E non vanno a incendiare A bruciare un cassonetto O una piccola biblioteca Penso a casa proprio non la fanno E quando lo facciamo fuori è casa nostra Perché questo è un bene pubblico E un bene di tutti E quindi anche è un elemento di educazione Di senso di responsabilità e di senso civico Sabato sera tre pattuglie di vigili urbani Hanno stazionato nel quartiere La polizia locale ha chiesto il supporto Delle forze dell'ordine Sono arrivati i carabinieri e gli agenti del commissariato Danni ingenti non sono stati provocati soltanto a Sant'Orso Ma anche a San Lazzaro Alla polisportiva la combattente è stata rotta alla vetrata di una porta Mentre nei giardinetti di Via dei Pini e al campo d'aviazione Nessuno si è degnato di ripulire e gettare negli appositi cestini Ciò che aveva consumato Lasciando sopra i tavoli e a terra Bicchieri, lattine e bottiglie sia di plastica che di vetro Vodka compresa Anche nel quartiere di Fenil Alcuni giovani si sono ritrovati nel parco di fronte alla chiesa Hanno ribaltato una panchina Rotto i bidoni della spazzatura E gettato a terra bottiglie di vetro Creando un pericolo per i bambini Che domenica mattina si sono ritrovati nello stesso posto per giocare Il degrado a cui viene lasciato questo parco In cui viene lasciato questo parco Da tempo lo denunciamo e chiediamo per l'ennesima volta Telecamere Perché tanto i genitori Sanno che i loro figli sono tutti innocenti Probabilmente è così Però qualcuno deve essere stato Io no, sicuramente Lui nemmeno Ne sono certo perché era con me Perché sono beni pubblici Abbiamo lottato qualche anno per avere questi giochi nuovi E vorremmo C'è stato smantellato il parchetto Lì c'erano tavolini Panchine Altri giochi Smantellato Qui a questo punto Dopo 5-6 anni Che accadono queste cose Le denunciamo E non cambia nulla Chiediamo che ci siano le telecamere Come in altre parti della città Perché dobbiamo individuare i responsabili Ok? Fine Probabilmente basterà Perché non è che vogliamo Nessuno vuole punire Però può essere un disincentivo importante Secondo me Io alle 3 del pomeriggio ero qui Ho sentito dei vettardi Era una cosa Ho avuto paura Sono fuggita Sono fuggita perché ti dico Erano una ventina di ragazzi Le urla e le esplosioni Non hanno fatto dormire sonni tranquilli Ai residenti di Sant'Orso Che ieri mattina Si sono trovati di fronte A uno scenario sconcertante In termini di sporcizia e degrado I cittadini hanno protestato E allertato diverse volte Le forze dell'ordine Chiedendo di intervenire Con azioni concrete Ho avuto tutti i vettardi Qui sotto il centro commerciale Sotto le macchine Io sono fuggita Ho avuto paura Sono sincera E dopo sul vostro servizio Ho visto tutto il macello Che hanno fatto Molto è andata la colpa ai genitori Io non sono del parere Perché i genitori cosa c'entra E tocca stargli molto dietro Però dopo fuori i ragazzi Fanno quello che vogliono Non è che A casa gli puoi dare tutte le regole possibili Dopo a casa fuori fanno come gli pare Di tutt'altro parere Altre residenti che abbiamo intervistato Ho visto i ragazzi Che erano tutti Si raggruppavano Sembrava che Presente quando vedi i filmati Dello stadio Che c'erano gli ultras Uguali Tutti mascherati E del fatto dei giochi rovinati Dei danni arrecchati in quartiere Da quanto abito qui Era un gioiello L'hanno fatto bellissimo Dopo poco tempo è stato distrutto Adesso poco tempo fa L'hanno rimesso a posto E l'hanno distrutto un'altra volta Di chi è secondo lei la responsabilità? Per me In maggior parte dei genitori Anche se è difficile Oggi giorno so con i ragazzi Sono tornato dal lavoro Ho visto veramente I bidoni In mezzo alla strada C'è un po' Un disastro Però Ecco Più controlli C'erano i controlli Ma non mi è sembrato così Cioè Fermi Magari erano ad altri punti In altri punti Invece di seguire un pochino di più Di essere più presenti Magari capisco anche il periodo Che Non ne possono più E quindi hanno trovato proprio L'occasione per dire Ecco ci siamo anche noi E Per cercare attenzione magari Non lo so Però Sì È un problema Da gestire meglio E da vedere Di trovare un'altra soluzione Soprattutto con i giovani Dargli una possibilità È passato a vedere Quello che è successo Sabato Che cosa ne pensa? Insomma un peccato Cosa vuole che ne pensano? Tutto il male di questo mondo Adesso che le scuole Le stanno giù Sono giuse Qua fanno i maciare Allora Anche di giorno Si siedono là Mangiano Bevono Lasciano a terra Quando si faceva buio Stavamo dentro le case Non ci facevano più uscire Un fidanzato Ce lo vedevamo di giorno Era Altrimenti niente Quindi erano altri tempi? Era bene Ma un po' Devono anche i genitori È una cosa bruttissima questa Io non lo so Perché non c'è Figli che vengono su così È una cosa Anche i genitori Voglio dire Dove sono? È la colpa dei grandi? È la colpa dei genitori Che non li seguono Non li coi Tanto se sei minorenne Insomma Perché adesso dicono Che non si può di niente Ma i figli Non so perché E c'è anche chi A risveglio Si è ritrovato Una parete della casa Imbrattata Con le bombolette spray Vi siete accorti La mattina? Sì La mattina Passava Un nostro vicino Di casa Mi ha detto Donatella Corri corri Ha detto Che ti hanno lasciato Un segno Ma dove? Io ho detto io Nella fiancata di casa Sono venuta a vedere Così Un disastro? Un disastro Sì Qui tutti gli spari Le bombolette Un macello Era un disastro Ma non solo Perché sono entrati Anche nella vostra abitazione Sì Sì Sono entrati qui dentro Nell'ingresso del garage E hanno tirato Un rastendino di panni Sopra Nel terrasso Sopra C'è rimasto il segno Nel muro Dopo aggiusteranno anche quello Noi ci dispiace molto Queste cose Molto 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 Ci fa male Perché noi Non diamo fastidio a nessuno E dopo i fatti di Sant'Orso Il comune annuncia L'installazione Delle telecamere Nei giardini di fianco Al campo Di Basket In queste ore Si stanno visionando Intanto le immagini Di video sorveglianza Della zona Per individuare Gli autori Di questi atti Vandalici Sono partite Già da ieri Le indagini Per individuare Tutti i ragazzi Coinvolti Nei fatti di Sant'Orso Sabato sera I vigili urbani Hanno identificato Dieci minori E' chiamato I relativi genitori Tre di loro Detenevano materiale Esplodente La cui vendita E' vietata Ai minorenni Inoltre Un ragazzo E' stato denunciato Per oltraggio Pubblico ufficiale Cinque giovani Sono stati multati Perché senza mascherina E altri quattro verbali Sono stati elevati A chi girava Motorino e bicicletta Violando le norme Del codice della strada Dopo aver visto Le immagini Pubblicate su Facebook Da Fano TV L'assessore Barbara Brunori Ha sottolineato La mancanza Di educazione E di rispetto Per le persone Le cose Ieri mi sono recata Proprio sul quartiere Qua di Sant'Orso Per verificare Lo stato del quartiere Quindi di disordine Ma anche dare vicinanza Ai residenti Tanto che ho trovato Tanta gente Qui sui parchi Preoccupata E ho capito Che hanno passato Veramente Una nottata Abbastanza difficile E sono rimasti Offesi Da questo gesto Perché alla fine È stato un gesto Che noi come amministrazione Non possiamo ricevere Ma nessuno può ricevere Un gesto di questo tipo Per cui come assessore Alle politiche giovanili Al decoro Ma anche alla partecipazione Mi metterò in moto Con l'assessore Tinti E l'assessora Cucchiarini Per far sì Che innanzitutto Venga ripreso Quello che è il progetto Della casetta Di restauro Attraverso un progetto sociale Di coinvolgimento Dei giovani Ma anche Per trovare Delle nuove formule Di copartecipazione Dei giovani Affinché questi spazi Vengano presidiati E mantenuti In buono stato Mi è spiaciuto molto Ieri mattina Proprio vedere Dei bambini qua Che rammaricati Perché gli hanno danneggiato Delle cose Su cui loro giocavano Tanto che noi Come amministrazione Ci avevamo così investito Da fare un quartiere A misura di bambino Quelle risorse Ha detto Brunori Sono di tutti i fanesi E ora i responsabili Dovranno risarcire i danni Eppure Ha proseguito Ci troviamo in un periodo storico Dove la priorità È la salute E queste cose Per rispetto Non dovrebbero accadere Nei giardini Di fianco al campo Da basket C'è anticipato Verranno installate Le telecamere L'assessore Alla polizia locale Sara Cucchiarini Ha invece ribadito Le operazioni di prevenzione Eseguite dal comando Così come il potenziamento Dei servizi Per lo scorso Fine settimana Abbiamo avuto luogo Una vera e propria Guerriglia urbana Fatta agita Da tanti ragazzi Giovani e giovanissimi Direi anche quasi bambini Ragazzi di 10, 11, 12 anni E questo è abbastanza grave Voglio esprimere innanzitutto Solidarietà A tutti i cittadini Del quartiere Di Sant'Orso Perché veramente Dalle tante testimonianze Si sono sentiti prigionieri Dentro casa propria Di queste dinamiche Che non sono affatto divertenti Ma che hanno proprio A che fare con atti veri e propri Di vandalismo I fatti non rimarranno impuniti E gli autori Verranno individuati Come sono già In parte stati individuati Ma direi che ci sono Operazioni molto importanti Come quelle educative e sociali Che devono avere luogo Perché qui c'è un vero e proprio Disagio sociale In tutta questa vicenda Aset Spa ha deciso Di sporgere denuncia Contro ignoti Non è accettabile Che una giornata di festa Si trasformi Nello sfogatoio di inciviltà Così il presidente di Aset S.p.A. Paolo Reginelli Che ritiene intollerabile Che il presunto divertimento Consista nel danneggiare La proprietà pubblica E i servizi dell'azienda Sono stati rotti Quattro lampioni Dell'illuminazione pubblica Vicino al campo Da palacanestro Rovesciati a terra E rovinati diversi cassonetti Dell'igiene ambientale In via Bellandra In via Divisione Carpazzi E in via Santo Eusebio Dove i contenitori Della raccolta differenziata Sono stati trascinati Fino al centro della strada Radicati anche i cestini Porta rifiuti Di proprietà del comune Ma gestiti da Aset Abbiamo iniziato subito A ripristinare i danni Per quanto riguarda i cestini Tutti che sono stati Divelti I danni che sono stati provocati Mentre invece Per le apparati Di illuminazione Abbiamo aspettato Stamattina Per capire meglio Quello che era successo Per fare in modo Di ripristinare tutto Nel breve tempo possibile Come ha già fatto in precedenza Per analoghi episodi L'azienda ha deciso Di sporgere denuncia Contro ignoti È una situazione Che ci ha lasciato Un po' sorpresi Perché eravamo abituati A qualche imbecille Che provoca dei danni Alle nostre strutture A tutto quello Che riguarda Aset Però di fatto Una cosa del genere In cui una consistente parte Di un quartiere Viene danneggiata Con queste modalità Ci ha lasciato un po' perplesso Tant'è che abbiamo deciso Che fatta la conta Dei danni Che avverrà tra oggi e domani Faremo tutto quello Che è possibile Per far ricadere Su questi cittadini E non su tutti I danni che sono stati causati Perché riteniamo Che l'unica cosa da fare Sia quella di responsabilizzare Cioè questi ragazzi Se sono maggiorenni I loro genitori Se sono minorenni Perché non ci sembra Il modo di poter ragionare E di poter gestire Il pubblico Perché questo è pubblico Tutto quello che noi abbiamo È pubblico Quindi sono tutti i soldi Dei cittadini Debba essere dilapidato Con queste modalità Stupide E senza nessun genere Di giustificazione E ancora cronaca Sono state trovate In possesso Di 15 grammi Di cocaina Le quattro persone Di età Compresa tra i 28 E i 41 anni Fermate dai carabinieri Della compagnia Di Urbino È accaduto Questo fine settimana Quando le forze Dell'ordine Nel corso Di un servizio Straordinario Di controllo Nei comuni Di Sasso Corvaro Auditore E Pian di Meleto Hanno fermato I quattro individui Che in seguito Alle perquisizioni Personali e domiciliari Sono stati denunciati Per reato Di detenzione Fini di spaccio E sostanze stupefacenti Durante il servizio Inoltre Sono state identificate Circa 50 persone Di cui sei Con precedenti Di polizia E controllati 40 autoveicoli Inseguiti dalle forze Dell'ordine I ladri Si danno Alla fuga È successo Alle 22 e 15 Di ieri Notte Quando i carabinieri Della stazione Di Fossombrone Fermi Ad un posto Di blocco Hanno intercettato Lungo via Flaminia Un Fiat Doblò Di colore bianco Risultato rubato A Longiano Una decina di giorni fa I malviventi Dopo aver tentato Di fermare i militari Sono scappati Per i campi adiacenti A piedi Abbandonando poi Il mezzo All'interno del furgoncino Sono stati rinvenuti Numerosi prodotti Di pelletteria Anche di pregio Materiale rubato Sottratto poco prima Ad una ditta Di cartoceto Ed una affettatrice Rubata ad un privato Di Fossombrone Dalle indagini È emerso Che il furgone Utilizzato Era lo stesso Segnalato Per il furto Di biciclette Avvenuto il 30 ottobre scorso In un noto Negozio Di cicli Sulla Flaminia Grazie al lavoro Dei carabinieri Di Colli al Metauro Le otto biciclette Ritrovate in un casolare Abbandonato In via Morola Di Cartoceto Verranno presto restituite Ai legittimi proprietari Oggi 2 novembre Si celebra La commemorazione Dei defunti Questa mattina Il vescovo di Fano Armando Trasarti Ha celebrato Una santa messa Al cimitero centrale La seguita Per noi Filippo Pucci I cimiteri Non diventino La piazza Dove si discute Ma siano un luogo Dove si fa memoria Dove forse Si piange E ci si incontra Con gli sguardi La visita Al cimitero È sempre Un momento Carico di emozioni Ma anche Ricco di fede Queste Le parole Del vescovo Armando Trasarti Durante l'omelia Di questa mattina Al cimitero Centrale di Fano In occasione Della commemorazione Dei defunti Del 2 di novembre Una celebrazione Esterna Composta E baciata Dal sole Che si è svolta Nella tomba Dei militari Caduti Nella prima E seconda Guerra mondiale Alla funzione Religiosa Hanno preso parte Diversi fedeli Autorità civili E militari Tutte Nel rispetto Delle norme Da coronavirus Noi siamo abituati Oggi a fare La memoria Delle vittime Di guerra Guerre che I nostri morti Nemmeno sapevano Perché Ma oggi ci sono Delle vittime Non di guerra Ma di lavoro Di malattia O soprattutto Di servizio Ne covid Ai deboli Ai malati E sono veramente I nuovi eroi Sia nel lavoro Che nella medicina Nella sanità Senza dubbio Bisogna allargare Gli orizzonti Altrimenti siamo sempre Nel vecchio E non sappiamo Riconoscere il presente Uno sguardo Poi Trasarti Lo ha voluto Rivolgere a quelle famiglie Che hanno perso I propri figli Il dolore è sempre Universale La malattia dell'anima E la mancanza Degli affetti E la nostalgia Però bisogna Essere attenti A un dolore particolare Soprattutto Quello delle madri E dei padri Che hanno perso figli Perché è un dolore Perché è un dolore Contro natura La morte dei figli È contro natura E la pietra Severa E quando una madre E la pietra Sa anche quella Che nella madre Di Cristo Nella dolorata Sotto la croce Che abbraccia il figlio La deposizione È la descrizione Somma del dolore Una madre Che chiude la tomba Da un figlio Questo bisogna avere Un'attenzione Sempre particolarissima Che sono dolori Che passano Per tutta la vita I genitori che hanno perso figli Già a metà Sono sepolti Infine Il Vescovo Ha voluto lasciare Un messaggio Ai giovani Vedo troppa superficialità Con briccoli di giovani Senza mascherina Non va bene Ma non per se stessi Perché si può trasmettere È questione di carità Nella salute degli altri Questi tornano a casa C'hanno nonni C'hanno parenti Ci sa ditelo Ma non per punizione Ma per Un accompagnamento Benevolo Verso le generazioni Ecco Torniamo a parlare Un attimo Di Covid-19 Perché il presidente Della regione Marche Francesco Acquaroli Ha poco fa Firmato Una nuova ordinanza Per il contenimento Del contagio Da Covid-19 In vigore Dal 4 novembre Al 4 dicembre Incluso L'ordinanza Prevede La didattica Distanza Al 100% Nelle università E per la formazione Professionale E il 50% Della capienza Consentita Nei mezzi Di trasporto Pubblico Locale Per quanto riguarda Invece Il ritiro Dei tesserini Di caccia In scadenza In questi giorni Si potrà fare Soltanto online L'obiettivo È quello di Rafforzare Le misure Di contenimento Già prese E le marche Per ora Sono sotto controllo Ha detto Acquaroli Secondo i parametri Previsti Dall'istituto Superiore Di sanità Ma non possiamo Permettere Che si alzi L'indice Di rischio Monitoriamo Ora per ora La situazione E non è escluso Che nei prossimi giorni Si interverrà Ulteriormente Il comune di Mondolfo Ha proclamato Lutto cittadino Per domani Martedì 3 novembre Giorno dei funerali Di Donald De Miro Giuliani 86 anni Ex parroco Di Mondolfo E cappellano Dell'ospedale Bartolini E poi del Santa Croce Di Fano Si è sempre stato Un punto di riferimento Per la nostra comunità Ha commentato Il sindaco Nicola Barbieri Una persona Di cuore Sempre vicina ai malati E pronta Ad aiutare Chi aveva più bisogno Il prete Che era stato colpito Da covid Dicenove Era stato ricoverato Nei giorni scorsi Per una grave Insufficienza respiratoria Si trovava nel reparto Di rianimazione Dell'ospedale Di Pesaro A Mondolfo Le bandiere Del palazzo comunale Saranno esposte A mezzasta Sono stati annullati Gli eventi In programma E sospese Le attività Ludiche E ricreative Inoltre Il comune Invita i cittadini Ad osservare Domani alle ore 15 Ora di inizio Del rito funebre Un minuto Di raccoglimento In memoria Di Don Aldemiro La cerimonia Che si svolgerà Nella chiesa Di Sant'Agostino Verrà trasmessa In diretta Sul canale 17 Di Fano TV E adesso ci spostiamo Al Codma Di Rosciano Dove sabato scorso Si sono conclusi Gli esami Di protezione civile Per l'occasione I volontari Hanno montato Anche un container Donato Da un imprenditore Fanese Dopo due mesi Di teoria Affrontati Prima del lockdown I volontari Di protezione civile Dei gruppi Di Fano E Pesero Hanno sostenuto L'esame Di logistica Al Codma Di Rosciano Sabato scorso Dalle prime ore Del mattino Si sono ritrovati Nell'area In cui ha la sede Il CB Club Mattei Obiettivo Montare e smontare Per più volte Quattro tipologie Di tende Per essere sempre Pronti e preparati Durante qualsiasi Tipo di emergenza Dai terremoti Agli alluvioni A coordinare le operazioni Il presidente Saverio Livi Stiamo dando La parte pratica Quindi i volontari Stanno montando Una vecchia PI 88 Che è una tenda Che ha 40 anni Una nuova tenda Autostabile Che è di nuova generazione Da qualche anno Una tenda pneumatica E quindi vedono La differenza Fra le varie tende Quindi quando si troveranno Sul posto Conoscono tutte e tre Le tende Poi alla fine Otterranno una qualifica In pratica di logista Ma c'era anche Una quarta tenda Da montare O meglio Un container Donato dal titolare Dell'azienda Chain Engineering L'imprenditore Fanese È infatti deciso Di sostenere Il CB Club Mattei Mettendo a disposizione La sua esperienza E i materiali Della ditta Che opera Nel settore Delle costruzioni La loro attività Commerciale Si sviluppa In tutto il mondo Alle mie spalle Ci sono Gli operai Di questa ditta Che stanno facendo Un prototipo Per poter Sostituire La tenda Cosa vuol dire Sostituire Le funzioni Sono quelle Serve solo per dormire Ma non c'è bisogno L'impianto È già all'interno La ricondizionata Del riscaldamento E raffreddamento È già all'interno Quindi è una tenda Che in realtà Non bisogna scappare Quando arriva il freddo Ma ci può stare Ancora di più Fino a che non si trova Una sistemazione È una cosa Che è nata Che Si era in testa E Angelo Il titolare ha detto Beh ci lavoro sopra Lo fa per passione E quindi vedrete Che è una bella cosa Ma non solo Perché il signor Angelo Candiracci Che è venuto personalmente Al Codma Per seguire le fasi di montaggio Nelle scorse settimane Abbiamo pensato Di fornire alla protezione civile Questa casetta Di 100 metri quadri Formata da pannelli ad incastro È stata completata In 5 giorni E rimarrà qui Per qualche mese Fino alla scadenza Dell'autorizzazione Ottenuta dalla regione La messa a disposizione Della nostra associazione Sia per la formazione Ma anche per le scuole Ma anche chi deve fare dopo scuola E qui poi la vedrete A disposizione Perché tra l'altro L'ha anche decorata all'esterno È diventata un qualcosa di bello Speriamo che ce la facciano Tenere il più possibile Qui all'interno del Codma E serve appunto Per chi ne ha la necessità Anche in realtà È un'aula scolastica Ma dentro si presta tante cose Il fano nuovo tecnico Il club annuncia Ufficialmente l'esonero Di mister Marco Alessandrini E del suo allenatore In seconda Sergio Spuri A mister Alessandrini Al suo secondo La società Granata Ha espresso il suo ringraziamento Per il lavoro svolto I migliori auguri per il futuro E ha comunicato Di aver affidato La guida tecnica Della prima squadra All'allenatore Flavio Destro E tecnico in seconda Invece Vincenzo Rodia E adesso invece Apriamo il nostro album Di Fano TV Per fare gli auguri Gli auguri di anniversario A Vittorio Polverari E Marisa Giommi Che sabato scorso Hanno festeggiato 50 anni di matrimonio Nozze d'oro dunque Per questa coppia Di Lucrezia di Cartoceto Che vediamo ritratta Nelle fotografie Scattate nel giorno del matrimonio E durante gli ultimi Festeggiamenti in famiglia Auguri a Vittorio e Marisa Che tra l'altro sono nostri affezionati Telespettatori E allora Insieme a loro Sicuramente anche tanti altri Che rimarranno qua Per seguire anche il resto Della programmazione di Fano TV Che questa sera prevede Oltre la pubblicità E le previsioni del tempo Missione Salute E poi in diretta Primo Cittadino Con il sindaco di Fossombrone Gabriele Bonce È tutto Grazie per averci seguito A domani Arrivederci Grazie per averci seguito